Referendum della Magna Grecia per far sì che Taranto si stacchi dalla regione Puglia ed aderisca alla Basilicata. Una battaglia storica, una battaglia di civiltà, una battaglia affinché Taranto sia rispettata e non più schiaffeggiata dalla regione Puglia. Avvocato Nicola Russo, presidente di Taranto Futura, il suo appello. Io mi appello alle famiglie tarantine e a quelle della provincia. Taranto ha un'occasione unica. Abbiamo un porto oggi fermo, un aeroporto chiuso ai voli passeggeri, due strutture che possono essere vitali per la Basilicata, priva di un porto e priva di un aeroporto. E quindi ci sarebbe un cambiamento di rotte di 360 gradi dal punto di vista economico, culturale, commerciale e turistico. L'invito ai cittadini a seguire il referendum. Si tratta della nostra esistenza. Vari punti di raccolta delle firme in tutta la provincia ionica. Certamente sì, partiremo probabilmente da Ginosa per poi arrivare nei vari comuni della provincia. E allora uniti per far sì che Taranto si stacchi dalla Puglia e aderisca alla Basilicata. Affranchiamoci dopo decenni e decenni di schiavitù. Certamente sì, dobbiamo rispettare quella che è l'identità tarantina che è stata molto trascurata e diciamo pure presa a schiaffi. Allora cerchiamo di alzare la testa e guardiamo in faccia i nostri interlocutori. Allora cerchiamo